Questo video doveva essere il teorico speciale 100k, poi il configuratore con intelligenza artificiale ha preso il sopravvento, però l'avevo già scritto e avevo già invitato un po' di ospiti per partecipare, quindi diciamo che ve lo metto come speciale di mezzo, uno speciale 100k parte 2, visto che adesso mi state onorando con tantissimi iscritti ogni mese e di questo vi ringrazio, nonché di tutto l'apporto che avete dato a questo canale negli ultimi anni per aiutarmi a crescere. Ragazzi, questo video è gigantesco e sono 100 curiosità, tip e cose utili nell'ambito del PC e del PC gaming. Like, commento, iscrizione e iniziamo. Il 2K si utilizza erroneamente per riferirsi alla risoluzione del Quad HD e 1440p, ma in realtà il 2K indica la risoluzione cinematografica del 1080p, 2048 pixel per 1080. Questo video ha richiesto più di 50 ore di lavoro, 8 mani ma non l'impero e un sacco, sacco di revisione, ma a voi costa soltanto un like. La prima recensione tecnica del canale di Mordentech risale al 2019 ed era quella della Radeon 7 in collaborazione con Tom's Hardware Italia, un saluto a Manolo del Tempo. Le RAM non sono retrocompatibili, se hai una scheda madre DDR5 non sarà compatibile con DDR4 e viceversa, così per tutte le generazioni. Tuttavia esistono generazioni di processori con schede madri che possono montare sia una che l'altra generazione, ma sempre separate, ognuna con il proprio modello. AMD ha avuto i primi processori dual core della storia, gli Athlon 64X2. Nella primavera del 2005 iniziò una competizione tra Intel e AMD per chi arrivasse prima ai dual core. Tecnicamente Intel arrivò prima con i Pentium D, però erano fondamentalmente dei Pentium 4 incollati insieme e le loro performance lasciavano molto a desiderare. Pertanto si diede il punto ad AMD. Tuttavia, qualche anno dopo, Intel introdusse i Core 2 Extreme e i Core 2 Quad, considerati i primi veri processori quad core della storia. Questi ultimi erano fondamentalmente dei Core 2 Duo incollati insieme e le loro performance in questo caso funzionavano bene. Nel 2010 Intel si prese anche il record per i primi esa core, con l'i7 980X. AMD uscì solo qualche settimana dopo con i Phenom 2 X6, che però non avevano simultaneous multitrading e costavano un quarto rispetto alla concorrenza, ma non erano proprio in pari. E a Intel attribuiamo anche il primo octa-core, il 5960X, uscito nel 2014. Tecnicamente ci sarebbero anche gli FX 8100, però fondamentalmente per la loro costruzione interna erano sì degli octa-core, ma vengono considerati dei 4 core 8 thread per come era strutturato internamente tutto quanto. Founders Edition è un termine marketing di Nvidia con cui ci si riferisce alle schede reference della casa verde. Nel caso di Intel e di AMD invece si utilizza semplicemente il termine reference, che sta per riferimento. Il computer più piccolo del mondo misura appena 0,3 mm, meno di un chicco di riso, e ha come obiettivo la cura e il monitoraggio di malattie come il cancro o il glaucoma. Threadripper è il processore non server con il maggior numero di core. Il modello 7995WX monta ben 96 core e 192 thread, in linea e anche superiore ad alcuni Epic. Le specifiche delle Founders inizialmente coincidevano con quelle dei modelli reference, ma a partire dalle RTX 2000 sono semplicemente dei modelli che si allineano maggiormente alle custom di fascia medio-bassa, andando a fornire comunque un prodotto finale piuttosto competitivo. Anche se produci un numero altissimo di FPS, bloccarli in linea con il refresh rate del tuo monitor potrebbe darti delle migliorie in termini di input lag, particolarmente utile nei giochi competitivi. E se giochi competitivo sappi che l'accelerazione del mouse di Windows potrebbe influire negativamente sulla tua mira, specialmente se sei abituato a giocare di braccio. Puoi disattivarla dalle impostazioni di Windows. Tutti i chip nascono originariamente in questa forma circolare definita wafer, dopodiché si fa una selezione definita binning con cui si scelgono quali chip diventeranno schede video e processori di fascia alta, media o bassa, in base alle proprie caratteristiche e qualità. La pompa di un aio deve essere sempre posizionata nel punto più basso del sistema, quindi se ne avete la possibilità cercate sempre di mettere il radiatore nella posizione superiore del vostro case. Migliorerà non solo le temperature ma anche il rumore. Intel 4004 è stato il primo microprocessore commerciale rilasciato da Intel nel 1971 e che vede la firma nella co-creazione di Federico Faggin, un noto fisico italiano. Se usi una scheda video con una PCI di generazione successiva a quella del tuo riser potresti non avere output video. Questo è perché il BIOS non riesce a leggere correttamente la scheda. Puoi rimediare semplicemente andando nel BIOS e impostando manualmente la stessa generazione di PCI tra la scheda e il riser. Hello! Congratulazioni per i 100k iscritti prima di tutto. Che bello risentirti, rivederti. Prima di tutto ci tengo a dire che tu sei stato mio primo mod. Il primissimo in assoluto. Quando facevo ancora le live in inglese ero una piccola streamer, mi ricordo, nel 2013, proprio agli albori di Twitch, che ancora neanche si chiamava Twitch, si chiamava JustinTV al tempo. E mi ricordo che cercavo una persona fidata per fare moderazione nel canale e vabbè, parlavano tutti inglese perché in realtà appunto facevo le live in inglese. E tu sei stato uno dei primi italiani, se non veramente il primo italiano, che è arrivato sul mio canale. E mi ricordo che tra l'altro sei stata la prima persona, sei stato la prima persona di cui mi sono fidata. E appunto sei il mio primo mod, il primo mod del canale Curulili. Quindi ti mando un grande bacio e un super abbraccio e ti faccio i miei auguri per tutto quello che arriverà. Primo mod. Per quelli troppo giovani che seguono questo canale, sappiate che il simbolo internazionale di salvataggio è spesso stato quello di un floppy disk, un supporto di archiviazione magnetica diffuso dagli anni 70. All'inizio erano di dimensione 20x20 cm e potevano supportare soltanto qualche centinaio di kilobit. Nelle versioni moderne invece vennero ridotti a 9 cm e avevano ben 1,44 MB di memoria. Se pensate alle USB moderne, beh, fatevi due conti di quanta roba abbiamo guadagnato negli anni. In caso abbiate dei dubbi sulla direzione del flusso d'aria che possano generare le vostre ventole, sappiate che sulla scocca del telaglio è spesso riportata la direzione del flusso, con delle piccole frecce. Il primo mouse della storia risale al 1964 ed è stato creato da Douglas Englebart. Era fatto completamente di legno e aveva un solo tasto di funzione, manco la rotella. Probabilmente è quello che utilizzano ancora oggi i tuoi compagni di squadra su Call of Duty. Attualmente il record mondiale di overclock su una singola CPU è di 9.117 MHz e appartiene allo svedese Elmore, fatto su una CPU 14900KS. Se leggi il manuale della scheda madre puoi ridurre il tasso di bestemmie in fase di assemblaggio fino al 99%. È un numero veramente incredibile che non ho assolutamente appena inventato. Però leggi quel maledetto manuale della scheda madre. Black Myth Wukong è stato il gioco PC con il lancio più esplosivo di sempre. Ben 3 milioni di giocatori insieme il giorno del lancio e fino a 2 milioni durante la prima settimana. Onestamente sono numeri pazzeschi. La configurazione QWERTY che utilizziamo oggi sulle tastiere moderne è stata inventata 150 anni fa sulle macchine da scrivere, per allontanare tra di loro le lettere più utilizzate nell'alfabeto inglese in maniera da evitare che le macchine si incerpassero qualora le stenografie scrivessero troppo in fretta. Interessantissimo. Mentre nell'era moderna facciamo le gare a chi scrive più velocemente con esattamente quella configurazione. Se vuoi provare a sfidare i tuoi amici puoi farlo su Monkey Type. Il nome originale di Intel sarebbe dovuto essere Moor Noise, dai due fondatori Moor Noise. Però siccome suonava come Moor Noise più rumore e insomma per un'azienda che producesse processori non sarebbe stato proprio al massimo, successivamente si decise per Intel, che sta per Integrated Electronics. Puoi avere un PC a forma di scarpa e a forma di squalo se compri le linee di Cooler Master Shark X e Sneaker X. E se hai un botto di spazio in casa è un sacco di soldi. Però in caso è una figata. Oggi i PC gamer sono 1 miliardo e 860 milioni, il che ci rende, dopo il mobile gaming, la più grande community di videogiocatori al mondo. Viva la Master Race. La prima collaborazione che abbia mai fatto con un brand è stata con Corsair. Nella primavera del 2018 abbiamo assemblato insieme un PC all'interno del 680X. Ancora me lo ricordo e onestamente è stato uno dei miei case preferiti di sempre. Nvidia è stata l'unica azienda nata come produttrice di prodotti da gaming e hardware a raggiungere il top della classifica delle aziende mondiali, con oltre 3 mila miliardi di valore, 3 trilioni. Per darvi un po' di contesto, TSMC, che produce i loro chip, al momento è al nono posto di questa classifica, mentre AMD, la loro prima concorrente, è al 47esimo. Se sommiamo il market cap di AMD, Intel, TSMC, Asus, Lenovo e Tesla, avremo un valore più basso dell'incremento di market cap di Nvidia dal 2022 ad oggi. Non c'è veramente più paragone. G-Sync è stata la prima tecnologia proprietaria di Adaptive Sync a essere rilasciata nel mercato nel 2013. La seconda, nel 2014, è il FreeSync di AMD. Però, a differenza della prima, questa è open source e royalty free. L'X Mighty Platinum di Cooler Master è tra gli alimentatori commerciali più grossi che tu possa trovare. 2000 Watt e ben due porte 12 high power da 600 Watt ciascuna. Nonostante lo strapotere di Nvidia, Intel è ancora la più grande produttrice di GPU al mondo. Questo perché la maggior parte dei suoi processori monta i GPU e nel solo Q4 del 2023 sono state spedite ben 50 milioni di unità. Fatevi due conti. Il nome originale di questo canale è Thanatos, precisamente Thanatos Place. Un posto in cui facevo gameplay, commentavo cose e parlavo di arte videoludica. Decisamente diverso da oggi. Il nome Mordentech nasce per sostituirlo in maniera più professionale nel 2016, quando mi accorsi di voler cambiare nome e soprattutto mi convinsi di Mordentech grazie al suggerimento di Lorenzo Chini, che mi aiutò a capire un pochettino un nome che includesse la parola Than, da Thanatos, perché volevo che insomma ci fosse un richiamo al passato, per non staccarsi troppo. La prima volta che il nome Mordentech venne citato avevo 1500 iscritti e lo considerai il più grande cambiamento della storia di questo canale. Era solo l'inizio di un lunghissimo percorso. E quei 1500 iscritti, e non solo, li abbiamo fatti in un singolo mese il mese scorso. Non mi lamento. Il primo collaboratore fisso della storia di Mordentech è stato preso 8 anni fa ed è Riccardo Detto Agosto, che negli ultimi 8 anni ha sopportato il mio caratteraccio e mi ha anche aiutato veramente tanto. Se c'è stato un progresso nei contenuti è anche merito suo. Quindi, grazie Riccardo. I tre giochi su cui abbia speso più ore in tutta la mia vita sono Starcraft 2, Mate in 2 e Fallout New Vegas. Insieme, complessivamente, totalizzano più di 10.000 ore. Forse dovrei uscire di più di casa e toccare un po' d'erba. Che ne dite? Il divario prestazionale tra la prima scheda video di Nvidia, la GeForce 256, e l'attuale top di gamma RTX 4090 si valuta tra le 1000 e le 2000 volte in base al programma che si prende per paragone. 42 è la risposta. AM4 è il socket più longevo della storia hardware. Il supporto è attivo dal 2016 e annovera ben 15 chipset e oltre 67 processori. Anzi, 100 se consideriamo i doppioni delle versioni Pro. Prima il record era detenuto dall'LGA 775 di Intel, che ha vantato aggiornamenti di processori dal 2004 al 2011. Tuttavia, non per tutti era garantita la compatibilità come su AM4. Nonostante la coincidenza nel nome, le automobili Tesla non utilizzano un Nvidia Tesla per gestire l'autopilot, ma fanno l'utilizzo di un SOC basato su Nvidia Tegra 3. Nel 2016 sono state sostituite poi dalle Nvidia Drive PX2, e solo successivamente Tesla ha deciso di sviluppare i propri chip proprietari. Ad ogni modo, a causa della coincidenza del nome, Nvidia ha ritirato la linea Tesla apposta per evitare confusione con il brand di automobili. Adesso si chiamano semplicemente Nvidia Data Center GPU. Nonostante ormai esistano monitor a più di 500 Hz e con risoluzioni superiori al 4 o addirittura 8K, tanti pro player di FPS continuano ad utilizzare risoluzioni ridicole tipo 1024x768 o addirittura più basse. Tanti pensano che siano risoluzioni magiche. In realtà tutto deriva dalla risoluzione che veniva utilizzata nei vecchi monitor CRT, e quindi tramandata per un fatto di abitudine. Le risoluzioni più basse addirittura per fare più FPS, ma con le attuali configurazioni e monitor in realtà non portano a nessun vantaggio. Quindi la prossima volta che giocherai con il tuo nuovo monitor in 4 terzi stretched, sappi che le tue performance forse non sono dovute per forza a quella risoluzione. Il formato di scheda madre più grande esistente è l'SWTX prodotto da Supermicro nel 2006. Ha una dimensione di 419 mm x 330 e può ospitare fino a 4 processori e 32 banchi di RAM. Ha letteralmente più banchi di RAM di quanta RAM in gigabyte abbia la maggior parte dei vostri PC. Wow. I formati ATX invece più grandi sono l'IATX, l'XL ATX e l'Ultra ATX di Foxconn, per quanto comunque siano poco utilizzati. Se non hai idea di come farti un PC e vuoi essere sicuro di tutte le compatibilità, puoi utilizzare il nostro configuratore con intelligenza artificiale Mordentech Build. Ti restituirà una build in pochi secondi in base al tuo budget e alle tue preferenze estetiche, pratiche di formato e cose come per esempio il dissipatore a liquido, quantità di RAM e capacità dell'SSD. Puoi usarlo in maniera completamente gratuita al link in descrizione. E acquistare direttamente su Amazon. Il motivo per cui per tanto tempo abbiamo ancora trovato CD-ROM all'interno delle scatole delle schede madri è perché in Asia, in particolare in Cina e in Giappone, si fa ancora largo uso di questo tipo di dispositivi. Alcuni addirittura fanno uso dei floppy, mi dicono. La prima volta che sono entrato in casa di Lorenzo Favijay ho guardato il suo custom loop, ho scoperto che gorgogliava e glielo ho rabboccato. Mi dava fastidio, ok? Confermo tutto, ciao. L'azienda taiwanese Asus ha un'origine interessante per il suo nome. Asus deriva da Pegasus, il cavallo alato Pegaso della mitologia greca, anche se effettivamente brand e cavallo si pronunciano in maniera diversa in inglese. Ma siccome non sprecano niente, nel 2008 è nato uno spin-off di Asus che si chiama Pegatron, che riprende la prima parte del nome. Molto interessante. Ma in realtà prima, nel 2002, nacque Asrock, come un vero e proprio spin-off dell'azienda Asus. Quindi diciamo che ci sono un po' di figli di Asus in giro, che è nata nel 1989. Invece, l'azienda Gigabyte è nata nel 1986, qualche anno prima, e al tempo il Gigabyte era un'unità di misura veramente pazzesca. Ci sono poi voluti 27 anni perché il Gigabyte lasciasse il passo al terabyte nelle unità di misura convenzionali delle capacità di SSD e hard disk nei PC consumer e anche in quelli server. All'inizio, le schede grafiche erano utilizzate principalmente come acceleratori grafici per immagini o 2D o 3D, non entrambe. Tuttavia, il mercato cambiò nella seconda metà degli anni 90 quando iniziarono ad arrivare delle schede video capaci di svolgere entrambe le funzioni in un unico pacchetto. Tra il 1996 e il 1998 uscirono infatti delle schede basate su AT Rage 2, Nvidia Riva 128 e la Intel i740. Se ragioniamo in questi termini, queste sono le prime vere schede video della storia. Ovviamente prima c'erano altri produttori come Matrox o 3DFX già presenti sul mercato. Se parliamo di x86-64, allora il primo processore a 64-bit della storia è uscito nel 2003 ed è l'Opteron di AMD. Per quanto Nvidia e Ray Tracing siano ormai dei sinonimi, non è stata la Casa Verde la prima a sviluppare dell'hardware dedicato a questo contesto. Nel 2010, infatti, la Silicon Arts ha sviluppato il prototipo di Ray Core, poi rilasciato al pubblico nel 2011, che sarebbe il primo vero pezzo di hardware dedicato all'accelerazione in tempo reale di Ray Tracing al mondo. Ovviamente Nvidia ha migliorato il tutto nel 2018, lanciando tutto all'interno delle proprie schede video. La prima fiera che abbia mai coperto è stato il CS 2019 grazie a Blink46, che ancora ringrazio. Mi ero trasferito a Milano da solo tre mesi e pensavo fosse già tempo di fare le cose in grande. Prima di Zen e delle console si prevedeva che AMD avrebbe dichiarato bancarotta nel 2020, ma grazie all'intervento della PS4, Xbox One X e di Lisa Su in particolare come CEO, l'azienda è riuscita a riprendersi. Da allora l'incremento azionario è stato dell'oltre 1300%. Beato chi ci ha creduto. Le prime due aziende informatiche al mondo sono state IBM, fondata nel 1911, e l'orgoglio italiano Olivetti nel 1908. C'è da dire tuttavia che IBM nasce come produttrice di macchine della preinformatica e Olivetti nasce come produttrice di macchine da scrivere, che magari alcuni di voi avranno visto in esposizioni e musei. Parlando sempre di Olivetti, la Programma 101, nota poi come P101, è stato il primo PC commerciale della storia, nel 1965 ben 11 anni prima dell'Apple One di Steve Wozniak e Steve Jobs. Invece dal lato dei portatili, il primo vero e proprio modello è considerato l'Osborne One, nel 1986 pesava 10 chili e costava 1795 dollari. Costava comunque meno di un PC con 4090 nell'era moderna. Tutte le architetture dei processori Epic DMD hanno nomi dedicati alle città italiane. Napoli, Roma, Milano, Genova, Bergamo, Siena, Torino e Venezia. Tutte le schede video di Nvidia invece hanno nomi dedicati a scienziati e scienziate famose. Dal 1998 con Fahrenheit a Blackwell con la prossima generazione di schede video RTX 50. Invece tutte le architetture di Intel sin dagli anni 90 hanno nomi dedicati a posti che esistono realmente nel mondo. Città, contè, montagni, fiumi, laghi e tanto altro. Il primo gioco competitivo tra due esseri umani è stato Western Fight, noto anche come Gunfight, ovvero un cabinato nel 1975 che ti permetteva di sfidare i tuoi amici in un duello digitale tra due cabinati. Molto figo. La Nintendo Switch è l'unica console a montare un SOC targato Nvidia. Si tratta da Integra X1 del 2015, basato su ARM per i core della CPU, mentre per quelli della GPU sfrutta architettura Maxwell. Ma tutto quello che dovete sapere è che ci gira Luigi's Mansion 2, il vero got assoluto. Un sacco di parole per dirvi che nel 2024 probabilmente il vostro tostapane monta cose più recenti. Ma ci gira The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Non penso proprio. Ma ci gira Mario Odyssey? Non penso proprio. Nice. Nvidia non è mai riuscita a inserirsi nel settore delle CPU desktop, sebbene nel 2011 ci avesse provato con il progetto Denver, inizialmente pensato dall'azienda Stexar, che la Casa Verde aveva acquisito nel 2006. Si trattava di un'architettura compatibile sia con ARMv8 che con x86. Non potendo però ottenere la licenza x86 da Intel, il progetto è stato poi modificato e ha fatto la sua prima apparizione nell'SOC, Tegra K1. Ironicamente però, Nvidia è stata la produttrice dei chipset N-Force per AMD e Intel dal 2001 al 2009. Comunque qualcosa di processori ha partecipato. Jensen Wang comunque ha deciso di vendicarsi negli anni recenti. Hanno presentato infatti come Nvidia le CPU Grace, dedicate al mondo dei datacenter e basate su architettura ARM. Mi sembra giusto dedicare un fact ad Anantek, una testata giornalistica tra le più importanti nel mondo del PC gaming e hardware in generale, che per anni ha nutrito le nostre menti e ci ha dato tantissime informazioni, da cui noi stessi di Mordentech abbiamo attinto ampiamente, e che ha permesso a figure veramente molto importanti come Ian Cutters di creare poi il proprio percorso nel mondo dell'hardware. Ha insomma fatto veramente tanto. Nel 2024 Anantek ha deciso di chiudere, purtroppo, però ci teneva a dedicargli qualche secondo. Ad un certo punto della storia l'Italia è stata più prolifica nell'ambito informatico degli Stati Uniti stessi. Olivetti ci manchi. La pasta termica, se eccessiva, ha un'influenza veramente limitata sulle temperature finali del nostro processore. Al più ti sporcherà veramente tanto intorno alla CPU. La prossima generazione di Nvidia, anche grazie al DLSS 4, potrebbe essere la prima generazione di schede video ad approcciare l'8K in maniera sostenuta. Staremo però a vedere con i test quando usciranno. Le RAM moderne sono DDR, che sta per Double Data Rate, un tipo di lavoro sincrono di trasferimento delle informazioni. Per questo motivo le RAM vengono riconosciute a metà frequenze sul BIOS o su Windows. Per esempio, se leggete 1600 MHz, probabilmente avrete 3200 megatransfer. Maggiore è il numero degli FPS senza frame generation, minore è la latenza all'interno dei giochi. Questa è una regola generale assoluta. Tuttavia, la frame generation è l'unica tecnologia capace di incrementare il numero degli FPS senza incidere sul carico del processore, il che è utile nel caso in cui siate vicini a una situazione di bottleneck. L'ultima scheda a supportare ufficialmente la tecnologia dell'SLI è stata la RTX 2080T. Questa era una tecnologia che poteva tecnicamente permettere di sommare le prestazioni di due schede video. L'alternativa di AMD, nota come Crossfire, ha resistito fino al 2017. Questa versione permetteva di mettere in comunicazione anche tre schede video oppure Nvidia e AMD mischiate. La tecnologia è stata poi sostituita dalla MGPU, molto molto simile all'NVLink di Nvidia. Nvidia nel 2017 ha rilasciato due versioni della Titan XP dedicate al mondo di Star Wars, una per l'Ordine dei Jedi e una per l'Impero. E un ulteriore interessante fan fact è che il prezzo fu di 1199 dollari, che era esattamente lo stesso prezzo al lancio della Titan XP. Questa è una cosa interessante perché in tempi moderni vediamo che le edizioni limitate costano sempre più rispetto a quelle non limitate. Nvidia nel 2019 è stato anche il primo e unico brand a lasciarmi una scheda video. Questa è una RTX 2060 Founders Edition con il caratteristico effetto specchio nella parte centrale. In qualche modo hanno creduto in me. Starfield e Red Dead Redemption 2 sono due giochi titanici che hanno richiesto complessivamente un budget di circa 500 milioni di dollari per lo sviluppo. Un valore veramente pazzesco, ma forse un po' meno se pensi che il solo costo marketing di Monopoly Go, un gioco mobile di Monopoly, è costato esattamente lo stesso. Come? Invece il singolo titolo più costoso di sempre è Star Citizen, che secondo le analisi dell'azienda che lo produce dovrebbe essere costato al momento 600 milioni di dollari per lo sviluppo. Tuttavia non è il gioco più costoso di sempre. Questo titolo infatti appartiene a Genshin Impact. Volete sapere quanto? 900 milioni, di cui una grossissima parte è finita in marketing. Direi che comunque hanno avuto il loro pesante ritorno. Hanno avuto il loro ritorno. Molto probabilmente il primo video del canale di Linostec Tips è anche il primo vero leak della storia. Infatti all'interno del contenuto lo youtuber fa vedere un processore in NDA. Certo, ha censurato moltissimi dati, però fa ridere che il primo video del più grande recensore della storia hardware effettivamente sia un qualcosa che mostra dei dati che insomma forse non sarebbero dovuti essere mostrati. 16 anni fa. Il mio primo video invece a tema PC gaming risale al 31 maggio 2017. Non c'era la mia faccia ma un gameplay di Rainbow Six Siege e vi rompevo le palle sullo spiegare come effettivamente non convenisse comprare componenti fino a giugno. Questo video fece circa 70 visualizzazioni in tre giorni e mi sembrava un risultato incredibile. Dopodiché divenne virale per i numeri dei tempi e fece mille visualizzazioni. Fu precisamente quel video a convincermi a continuare nel mondo del PC gaming. Ironicamente YouTube non è il mio social con più iscritti. Infatti nel momento in cui sto registrando questo video ancora per poco Telegram è quello con più iscritti complessivamente se sommiamo i miei cinque canali senza considerare il gruppo e il canale feed. Devo dire è una cosa abbastanza particolare. Se volete risparmiare ogni giorno comunque il link è in descrizione. A meno che tu non faccia acquisti su GOG.com in Europa quando compri un gioco stai comprando in realtà un accesso con licenza che ti può essere revocato in qualsiasi momento. Se vuoi fermare tutto ciò puoi firmare la petizione di Stop Destroying Games e aiutare a rendere più rosso il futuro del gaming. Minecraft è uno dei giochi più stranamente flessibili della storia. Nel 2020 l'organizzazione Reporter Senza Frontiere ha rilasciato la Uncensored Library, server e mappa in cui sono presenti moltissimi report giornalistici pensati per essere accessibili da paesi sottoposti a forte censura, ma in cui ironicamente è possibile giocare a Minecraft. In passato il disco primario del PC prendeva il nome di Master, mentre tutti i secondari prendevano il nome di Slave. Per ovvi motivi morali la cosa è stata abolita. Adesso si chiamano principale e secondario. Direi che avevano ragione. Alla sua uscita nel 2007 il gioco Crysis divenne un meme importantissimo per la storia del PC gaming, perché con il suo peso veramente assurdo metteva in crisi la maggior parte dell'hardware disponibile al tempo. È da lì infatti che deriva il meme, ma ci gira Crysis? D'altro canto la versione originale del 1993 di Doom è talmente leggera che è diventata un meme a sua volta facendolo girare su pressoché qualsiasi dispositivo. Ad oggi l'abbiamo visto su oscilloscopi e addirittura su dei test di gravidanza. Se l'avete fatto girare su qualcosa di più assurdo, fatemelo sapere nei commenti. I dissipatori ad aria in realtà sono più correttamente dissipatori a cambio di fase. Questo avviene grazie alle heatpipe che stanno nel corpo dissipante. La GTX 480 quando uscì veniva considerata un fornetto a causa dei suoi consumi veramente alti di 220-240W in base al modello. Ad oggi 220-240W sono i consumi della fascia media, 7800 XT o 4070 Super, il che è veramente pazzesco. La prima scheda video di Intel, la Intel i740, precede la prima scheda video di Nvidia, la GeForce 256, di ben un anno. Negli ultimi anni si è creato un vero e proprio panico psicologico per gli alimentatori. Gli alimentatori sono una delle componenti più sovradimensionate che trovate all'interno del PC della maggior parte dei PC gamer. Questo perché negli ultimi anni, complice il mining, i produttori hanno spinto per aumentare la capacità massima dei propri alimentatori. Ma state tranquilli, contrariamente a quanto dicono i luoghi comuni, non dovete utilizzare massimo il 50% della capacità nominale del vostro alimentatore. La maggior parte di questi non perderanno veramente tutta la loro efficienza semplicemente superando quel valore. Anzi, contestualmente si perde più efficienza a carichi bassi che a carichi alti, dove invece la dispersione è di qualche punto percentuale anche in alimentatori di fascia molto bassa. Fare 100.000 iscritti mi ha richiesto oltre 7 anni di lavoro, un bel po' di collaboratori che ringrazierei singolarmente ma sono veramente tantissimi. Ad ogni modo, se siete stati i miei collaboratori sapete chi siete, ma mi sento in particolare di ringraziare Giuse, Mattia, Gianni, Flavio, Ricky, Agosto, Emmanuel, Alberto, Abel, tutti i redattori che abbiano mai scritto un articolo su mordentech.it e tutti coloro che abbiano mai collaborato ai miei canali Telegram. In qualche modo tutti quanti avete contribuito a un processo veramente più grande di quanto io potessi mai immaginare di raggiungere. E di questo vi ringrazio tantissimo. Detto questo, siamo arrivati alla fine di questo video. Fatemi sapere nei commenti se avete trovato tutti gli ospiti e gli easter egg. Se volete lasciate un commentino per aiutare con l'algoritmo e noi ci vediamo al prossimo video. Voi state su Mordentech, salamusa!